eeeh salve a tutti pignotti qua è Amin che vi parla no qua è Amin Amin che vi parla ed oggi siamo con una nuova Cioccoloman ah no non mi ero sbagliato ok, siamo con un nuovo blog siamo con un nuovo blog oggi parleremo di pettini no no ok oggi faremo delle domande prima domanda la Nicola che ci chiede mettiti una ciotola in testa prendi qualcosa e picchia subito fatto seconda domanda da Luisa che ci chiede come mai hai aperto questo canale di youtube io ho aperto questo canale di youtube così così bah ah cazzo affanculo l'ho aperto così qui dietro non so perché l'ho aperto forse forse mi sono drogato al pub forse mi sono drogato ho bevuto Ok, passiamo alla seconda domanda Cosa ti piace di più di mangiare? Io mangio di tutto, veramente di tutto Io mangio di tutto Ok, la seconda domanda E' la domanda Marco Cosa ti piace Marco Marco Luca 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 Ciao ragazzi Luca Luca No, non si chiama Dubai, casa mia si chiama Rosangelo, si, casa mia l'ho chiamato Rosangelo, io, i miei genitori, non lo so. Passiamo alla prossima domanda, ok, la prossima domanda, di che cosa hai paura di scrivere da mattina? Che ci dice, di che cosa hai paura di scrivere tutto? Ok, io ho paura del, del questo qua, non questo coglione, io ho paura di lui, che ritorna. Ecco, di che cosa ho paura. Allora, seconda domanda, che ci viene da Lucrezia, Martinella, non ricordiamo il cazzo con Lucrezia, che ci viene, ok, quali sono i tuoi film preferiti? Questa è la penultima domanda. Quali sono i tuoi film preferiti? Sì, dicili, ok, i miei film preferiti, c'è questo qua, mi piacciono le categorie di me, le commedie. Sì, non mi lasciare. Non ti sto lasciando, amore. Ma scusa, sei preso la falligia? Alla fine, gente se n'è andata. Poi mi piacciono gli horror. Poi mi piacciono i comici, molto divertenti. Questa è la dimostrazione. Aspettate, aspettate, cosa dice un bue a un bue? BUUUM! E poi, delle suore. Come fanno ad andare al cimitero? C'è un coccodrillo, ci sono un legno di coccodrillo qua al cimitero e poi le suore. Cosa fanno? Le suore si fanno mangiare di coccodrillo e poi vanno al cimitero. Poi, ci sono tre italiani. Un tedesco, un francese e un italiano. L'italiano, il francese butta il cioccolato e dice, oh, quando ce ne abbiamo il francese? Il cerno è l'oltre. Il tedesco butta il profumo e dice, oh, quando ce ne abbiamo. Lo tagliamo, lo tagliamo, lo butta un italiano. Oh, quando ce ne abbiamo il zabra. Sì, mi piace un forgo. Poverde, mi piace, mi piace. Niente più. Passiamo alla prossima domanda. Eh, io ho l'oltre ultimo. Qual è il tuo sport preferito? Beh, il mio sport, il primo, è il calcio. Passa, 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 sono l'alberto. Prego, passa. Cazzo. la seconda è basket non ne parliamo e la terza è la singhia bunga ecco la terza passiamo all'ultima bombasta passiamo all'ultima domanda che è della zichegna l'assassina l'assassina sicuro che sei l'assassina dipende ok l'assassina che ci chiede quali sono i tuoi posti preferiti? beh i miei posti preferiti sono il il cesso la vasca da bagno è la porta l'ho chiamata portina ok questo video finisce qua se il video vi è piaciuto lasciate un commento mi piace un commento e lasciate anche un bel like iscrivetevi al canale se il video non vi è piaciuto cosa potete fare se il video non vi è piaciuto mettete lo stesso like iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.